Ragazzi, ebbene sì, sono abbastanza deluso oggi e anche furioso, e anche te penso. Di brutto, direi di brutto. Intanto ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, mi ritrovo al parco QT8 di Milano. Montestella. Montestella. Famoso. C'ero stato qui tempo fa, nel 2014, quando c'è stato un meeting di calisthenics e un bel po' di persone. Vi ricordo, ballo pieno. Ho visto che dopo quanti anni, otto anni, praticamente nulla è cambiato. Anzi, è cambiato, è cambiato. È cambiato in peggio, è cambiato. Infatti vedo, sono un po' deluso, pensavo di vedere qualche modifica, qualche piccolo miglioramento dall'ultima volta che l'avevo visto, invece nulla di che. Però vabbè, come molti ragazzi che mi scontattano, comunque per chiedermi di contattare l'assessore per cercare di migliorare il parco nella propria città, avevo contattato Lorenzo per mettermi a contatto con l'assessore o con il presidente del municipio. Presidente del municipio di zona 8. Per cercare di mettere, di sistemare un po' questa zona. E di migliorarla. Esatto. E quindi sei riuscito a farmi fissare la data con... Giulia Pelucchi. Giulia Pelucchi, esatto. Presidente del municipio di zona 8, quindi tutta zona 8 in poche parole, compresa appunto questa. Esatto. Siamo riusciti a metterci a contatto, abbiamo fatto una videochiamata se non ho sbaglio. Esattamente. Tanto la ringrazio di aver dato la propria disponibilità per la videochiamata. Niente, appena ero entrato, ero già programmato tutto il discorso sulla presentazione, di che cosa mi occupo, il preventivo, perché io c'ho già i preventivi delle aziende che fanno proprio le strutture, c'ho già proprio tutti i prezzi anche e sono a contatto anche con alcune aziende sponsor. Dove si occupano anche dei pavimentazioni e tutto, quindi sarebbe un bel lavoro. Mi ero preparato tutto sto discorso appena entro, qualche minuto dopo di ritardo, due o tre minuti, già si parla proprio che non si può fare niente, così cavolo. Cioè mi ha sballato tutto il programma, tutto il discorso. Chi lo dici? Ci sono rimasto male anch'io. Non me l'aspettavo, più che altro hanno detto che, all'inizio hanno detto che non si poteva fare niente perché il budget è fuori misura. Milano al momento si occupa magari tramite, cioè collaborano tramite gli sponsor privati comunque. Ah, gli altri sono i ragazzi, non ve li ho presentati, ma sono i ragazzi del campo che si allenano in questa zona, siete del quartiere. Noi siamo ragazzi che come voi ci alleniamo, utilizziamo queste sbarre, belle o non belle, e adesso va bene, noi le abbiamo sempre utilizzate. E vorremmo, speriamo, di un aggiornamento, diciamo, di tutta la settimana. Sì, sì, diciamo che ho fatto un po' da tramite per tutti loro, ho parlato a nome un po' di tutti le richieste che mi hanno fatto. La risposta che ho ricevuto purtroppo è che mi hanno detto che Milano non può permettersi un tale budget, è quel che ho capito. E tra l'altro l'ha detto senza aver pronunciato nessun budget. No, ma infatti, perché io ancora non ho tirato fuori neanche i soldi, cioè i preventivi, non ho ancora parlato delle sbarre quanto costano. Già così in partenza ho detto, cavolo, fammi almeno dire tutto dettagliato. Anche perché non si parlava di una cifra spropositata. Infatti adesso ci arriverò anche a che cifre stiamo parlando. E ci ha detto che loro collaborano tramite le aziende private o qualche sponsor che sono pronti ad investire un tale budget per la struttura. A me sinceramente questa cosa non l'ho sentita nelle altre città in cui sono riuscito a mettere le sbarre, come ad Albiolo o ad Esio, che sono città più piccole rispetto a Milano. Direi anche perché, minchia, una città come Milano. Milano è la città più ricca in Italia. In Italia. Se non si riesce a fare un parco qua, un parco, cioè nuovo qua o comunque migliorare dei parchi. Infatti sono rimasto un po' allibito quando mi ha detto che non può permettersi un tale robo. Mi hanno detto, hanno tirato fuori la roba delle panchine che bisogna aggiustare. Sì, vabbè, ho capito. Quello c'è anche a Seregno, anche a Seregno mi hanno detto la stessa cosa. È un problema un po' di tutti i comuni, penso. No, ma infatti non è solo lì, però... Quindi questa cosa mi ha lasciato un po' allibito, non me l'aspettavo una tale risposta. Un po' di amarezza anche perché comunque uno prova a fare questo parco nuovo per tutti, per tutte le persone che ci sono, che si vogliono allenare appunto, per avere un stile di vita più sano. Però a quanto pare questo non interessa. No, ma al di là di questo io lo chiamo anche investimento, comunque adesso volevo arrivare anche a quello. Quando ha dato subito la risposta negativa, cioè sono passato al preventivo dicendo, guarda che non si tratta di cifre veramente alte, stiamo parlando dai 10.000 ai 15.000 massimo, considerando la struttura, la pavimentazione, la parte della gettata, tutte le parti burocratiche. Lei aveva detto, ah, non pensavo la cifra così piccola, pensava a 40.000. Mi ha stroncato in partenza senza neanche sapere di che cifre sto parlando. E quindi quando gli ho detto che si tratta di una cifra dai 10 ai 15.000, ha detto, eh, vi aggiorno, vi farò sapere. L'ha fatto però, diciamo che... E ci ha messo a contatto con l'assessore Martina Riva. Sì, che è l'assessore dello sport di Milano, che anche lei alla fine ci ha risposto la stessa cosa. La stessa identica cosa, mi ha risposto uguale. Che non si può, lo fanno tramite sponsor privati. E questa cosa un po', mi ha dato un po' fastidio. Perché appunto Milano, una città come Milano, è un po' vergognoso. No, ma infatti, cioè, più che altro se la paragoniamo ad Esio, che hanno fatto un bellissima struttura dal Violo, dove ho fatto anche l'inambulazione. Hanno speso anche più di 15.000 euro, per esempio. A noi basterebbe solamente una cifra... Qua stiamo parlando dai 10 ai 15.000. E quindi loro hanno detto che cercano sponsor. E a questo punto, niente, con questo video, cerchiamo, speriamo di trovare qualche sponsor. Se qualcuno è interessato a fare l'investimento, per mettere qui la struttura per i ragazzi, lo chiamo anche investimento, perché farei con molto piacere l'inaugurazione, il video, pubblicizzando questo parco. Anche ringraziando gli assessori o qualche sponsor, se qualcuno è disposto ad aiutarci. Anche perché comunque non era un parco sconosciuto, cioè il Montestella. E niente, voi raga, cosa ne pensate di sta cosa? Ma io penso che sia importante, più che altro, rinnovare tutta questa zona, perché il parco non è solamente un posto dove te vieni per allenarti, fare i muscoli. Comunque è un posto dove ti incontri con tutti gli altri ragazzi, fai amicizia. Cioè ci sta tanta gente, tanti ragazzi del quartiere ma per tutta Milano, che magari si perdono per strada. Mentre se hai un punto di ritrovo, qualcosa da fare insieme, che però deve essere bello, motivante, non che vieni qua, hai quella, la spalliera, la rastrelliera che cade a pezzi, gli aghi di pino, le buche per terra. Infatti ragazzi, io questa spalliera ormai la vedo da sette anni, non è cambiato niente. È il solito legno che tra poco si spacca, gli altri si sono già rotte, come ben vedete. Basta guardare qua sotto, se date un'occhiata, quando saltello, vedete già che si piega? Tra un po' si... non vorrei cadere già, romperlo in diretta però. È un legno molto vecchio che tra un po' si spacca, infatti uno si era già fatto male, mi hanno detto. Quindi proporrei di mettere almeno una struttura in ferro lì. È un castello che avevo proposto che si aggira intorno ai 3000, forse anche meno, non lo so. In questa parte centrale, togliendo questa parte in legno che nessuno la usa, eccetto per appoggiare i vestiti. Esatto, esatto. Volevo rendere più questa zona fitness, basata sul calisthenics, dato che moltissimi ragazzi praticamente si allenano solo sulle sbarre. E magari un po' di addominale sull'altro pezzo a parte. Esattamente. Volevo rendere più questa parte incentrata sul cali. Anche perché altri esercizi, oltre a usare queste sbarre qua, non sono possibili. Sì, perché la gente alla fine si arrampica sulle sbarre, ed è quel che vedo. E metterci anche la pavimentazione perché vedo che qua non è che c'è... Anche perché alle sbarre si può comunque cadere. Infatti. E niente ragazzi, questa era la mia richiesta per cercare di renderlo migliore. Purtroppo la risposta che ho ricevuto, a parte che ho dovuto sempre scriverli io, perché io aspettavo settimane e non ricevevo risposta. Quindi dovevo scrivere allora, cioè anche questo dopo un po' mi dava fastidio. Sollecitare continuamente, 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 fino a quando appunto non ci ha dato sempre le stesse risposte. E questo comunque è un po' fastidioso. No, 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 ma infatti. Vediamo, speriamo che riescano a trovare un tale budget per permettersi di... Cioè mi fa anche strano dire sta cosa qua. Sì, perché un tale budget, cioè è una cosa che... Imbarazzante che Milano non abbia un budget così, cioè... Al di là dello sponsor, hanno detto che devono anche dare l'approvazione, quindi se troviamo qualche sponsor e se ci dà l'approvazione il comune di Milano, che poi io sono anche, essendo cittadino di Seregno, non è neanche il mio zona, però mi farebbe piacere che anche questa zona qui ci fosse un bel castello per i ragazzi che si allenano. Che poi ci tengo a precisare, ragazzi, non lo sto facendo a scopo di lucro questa cosa, perché non ci guadagno niente di niente a vendere la struttura, perché le sbarre non sono mie, sono semplicemente a contatto con le aziende che cercano di vendere, magari ci guadagnano loro semmai. Sì, direi del prezzo neanche più di tanto, più tra l'altro. No, ma infatti, poi se il comune conosce altre aziende, per me va più che bene, a me non mi interessa che tipo di aziende, basta che mettono una struttura in ferro fatta bene e una buona favoritazione. Dove ci si può allenare completamente. Quindi lo faccio per voi, per sostenervi e vediamo come va. Si spera che la situazione non rimanga questa, anche perché appunto, come dicevi te, anche dal 2014 che è così, andando avanti col tempo può solo che usurarsi ancora di più e rischiare che altra gente si faccia male. Poi ragazzi, stiamo parlando dal 2014, sto vedendo questa situazione, otto anni sono passati. L'unica cosa che è cambiata è la verniciatura delle sbarre. Vabbè, almeno dal blu, al grigio al blu, almeno una cosa c'è. Qualcosa hanno fatto, dici? Però dai, a parte gli scherzi, mi piacerebbe che dopo questo video almeno ci sia un cambiamento, un domani magari facessero qualcosa. Una qualche risposta. Non vorrei che il video finisse qui e basta. Niente ragazzi, per oggi il video finisce qui, penso di essermi sfogato abbastanza, ho detto più o meno tutto. Direi di sì. Al di là dello sfogo o altro, non vorrei che finisse qui la cosa, vorrei che un domani provassero a sistemare, a migliorare la cosa. Non vorrei rivedere questo posto anche tra due e tre anni. Speriamo che questo video sia servito a qualcosa. No, ma infatti. Poi se qualcuno cercherà di migliorarlo, che sia sponsor, che siano gli assessori, quindi mi riferisco a Giulia e a Martina, vi ringrazierei con molto piacere anche nei futuri video che farò in questo posto. Nel frattempo vado nel parco dove preferisco di più ad allenarmi ad Esio e accontentare magari le richieste nelle altre città che mi stanno facendo gli altri. Vediamo come va negli altri posti. Allora Milano mi ha dato questa risposta, quindi vediamo che cosa mi diranno gli altri. Va bene, infatti sto ridendo, non riesco neanche a dirlo seriamente. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, un bel commento, ditemi qui sotto cosa ne pensate voi. Ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti.